Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Allora, molti di voi mi scrivono dicendo Ah, ma vorremmo cambiare dal camper alla roulotte. Quali sono le differenze? Quali sono le problematiche? Come devo scegliere una roulotte? Che tipo di caratteristiche? Allora, sulla base di nocciolina e ginger, perché sapete che oltre il camper che c'è qui alle mie spalle, ho anche la roulotte e il caravan vintage che traino con la panda, vi do qualche dritta proprio sulla base della mia esperienza. Non tanto un'esperienza di caravanista da due anni, ma quello di campeggiatore da più di 45 anni, perché con i miei, prima del camper, per ben 15 anni abbiamo avuto la roulotte come forma di vacanza. Beh, insomma, che dirvi, state lì e non lasciatevi, perché intanto vi faccio vedere qualche immagine di nocciolina, e sotto vi descriverò anche alcune caratteristiche. Prendete carta e penna o salvatevi il video, perché potrebbe tornare utile proprio nella vostra scelta. Per prima cosa, per prima cosa vi dovete guardare bene il libretto del vostro veicolo, della vostra auto. Alla voce O1 c'è indicata la massa rimorchiabile. Questo è fondamentale, perché quel valore deve essere quello dove voi dovete stare entro, quel valore per il traino del veicolo. Ed è necessario sia ai termini giuridici, cioè dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista della sicurezza e prestazionale dei consumi dell'auto. Che cosa significa? Significa che nulla vieta di trainare anche oltre quel peso. Vieta nel senso di fattibilità, non dal punto di vista legale. Ma il problema è che in caso, ad esempio, di sbando del rimorchio, è lui che traina l'auto e non il contrario. Quindi voi perdete completamente il controllo. Ma solo per citarvi un piccolo esempio del perché non deve essere assolutamente superiore al veicolo che traina, il peso del rimorchio non superiore a quello della motrice. Altra cosa fondamentale, una volta che avete identificato il valore O1, cioè la massa rimorchiabile, dovete considerare invece nella roulotte quant'è il peso massimo. Le roulotte, i caravan, hanno un peso vuoto e un peso massimo, cioè quello che può essere caricato all'interno del veicolo. E' quel peso massimo che deve essere quello inferiore a O1 indicato nel libretto. Altra cosa fondamentale, e questo è il secondo punto invece, il gancio traino. Con la nuova normativa il gancio traino, ve lo installano direttamente in un punto autorizzato, non dovete più portare la macchina al collaudo, ma ci pensa direttamente l'installatore al collaudo e all'installazione. Se mi chiedete il costo può variare dai 700 ai 1000, 1200 euro, a seconda della tipologia di auto e di tipo di gancio. Se mi chiedete quali possono essere le aziende specializzate, normalmente potreste trovare ganci traino di Gosmi d'Italia, tanto per dirvene uno, oppure potete contattare Cristina Fustinoni, del concessionario Fustinoni, lei è anche detta Lady Caravan, e lei vi indica l'installatore più comodo per la provincia di Bergamo. Se siete in giro per l'Italia, potete contattare i concessionari Asso Camp, più comodo, quello più vicino a casa vostra, e direttamente vi danno le indicazioni dove trovare l'installatore del gancio traino. Terzo punto fondamentale nella scelta del caravan. Il caravan, a differenza del camper, ha costi inferiori nella gestione. Che cosa significa? Bollo, assicurazione e revisione costano di meno di un veicolo. L'ultimo punto, revisione, dipende dalla provincia, dalla motorizzazione, ma in generale ha un costo inferiore il rimorchio rispetto al camper. L'assicurazione è fondamentale averla, abbinata all'automobile. Il vostro assicuratore può indicarvela. Io utilizzo Dorazze Assicurazioni, con un costo veramente minimo di assicurazione. La revisione e il rimorchio va fatta una volta ogni due anni, e anche questa va portata in motorizzazione oppure presso un'agenzia specializzata. Il bollo, stesso identico principio. Per esempio, è un rimorchio e necessita del bollo, come i veicoli abituali, con un costo ovviamente inferiore. Ovviamente il costo inferiore del caravan è dovuto anche al fatto che non c'è la manutenzione della parte del motore che invece in camper avete. Però, però, dovete considerare che l'auto ha bisogno di una maggiore manutenzione ordinaria, perché organi come la frizione e i freni sono sollecitati maggiormente perché viaggiate a pieno carico con un rimorchio dietro. In tutto questo, in ogni caso, anche se aumenta la manutenzione ordinaria della vostra automobile, non raggiunge mai il doppione di avere il camper come manutenzione ordinaria. E ora veniamo invece alla scelta più pratica del caravan rispetto al camper. Non esiste una tipologia, non esiste un motivo fondamentale per cui uno scelga la roulotte rispetto al camper. Non esiste meglio uno o meglio l'altro. No. Esiste un modo diverso di vivere il tempo libero e la vacanza. Se ti accorgi, per esempio, che il camper lo usi poche volte durante l'anno e quindi è un capitale fermo che prevede manutenzione maggiore perché il camper, a differenza del caravan, ha anche la parte del motore, quella che vedete qua davanti. Allora, a quel punto il caravan potrebbe essere una soluzione migliore. Intanto perché magari puoi lasciarla in un campeggio piuttosto che un rimessaggio, così che d'inverno, quando normalmente non usi il camper, prendi la tua macchinetta e vai sul lago, al mare, in montagna e fai due giorni in roulotte o in campeggio. Cosa che non faresti magari col camper perché devi muoverlo e devi muovere comunque sempre 6-7 metri, 7 metri e mezzo di veicolo. E poi perché il camper tanto paghi già il rimessaggio eventualmente per lasciarlo, a quel punto invece di pagare un rimessaggio paghi un campeggio e hai il servizio. Metti che tuo figlio o tua figlia vogliono fare il capodanno al mare, hanno la roulotte dei genitori, quello con cui tu fai le vacanze normalmente. Oppure banalmente, semplicemente vuoi prenderti una settimana di stop, devi dare il bianco in casa e decidi di mandare tua moglie e i figli sul lago a un'ora da casa, a un'ora da dove abitate e così si vive lo stesso a tranquilli avendo l'opportunità di sfruttare la roulotte. Sono solo alcuni degli esempi, però di base una vacanza rispetto a un camper della roulotte diventa diverso il modo in cui voi gestite il tempo libero. Vi faccio un esempio, quando io presi nocciolina e agganciai la roulotte al panda dissi dove metto la bici? Perché arrivando dal camper sappiamo tutti che il camper è fondamentale avere una bici per poterti muovere e per poter visitare il territorio. Quindi dissi sul timone non lo posso mettere perché c'è già il portabombole, sul tetto della panda no, diventa veramente scomodo, dovrò comprarmi una bici pieghevole. Poi ci ho pensato e ho detto che cosa mi serve? Io ho l'auto, ho sempre la mia pandina per muovermi. Ecco, questo è lo switch mentale tra camper e roulotte. C'è capire perché cambia una roulotte e quale può essere il suo vantaggio. Lo svantaggio, certo, è quello che avete due veicoli in manovra, è quello che quando siete in autostrada pagate per tre assi, è quello che quando decidete di fare una sosta libera avete meno autonomia rispetto a un camper. Sì, è vero, posso attrezzare la roulotte e camperizzarla, ma per quanto la camperizzo non arrivo proprio ad avere l'autonomia che ho con il camper. Quarto punto fondamentale invece riguarda la sosta. La roulotte, o meglio, facciamo anche un piccolo incip, roulotte o caravan, è lo stesso modo di chiamare rimorchio. Semplicemente il caravan e il rimorchio, la roulotte, perché abbiamo mutuato dal francese caravan e roulotte, allora pensiamo che sia più corretto usarlo femminile, la roulotte. Ma in realtà si parla di rimorchio, quindi il caravan. Allora, il caravan deve essere agganciato all'automobile sempre per poterti fermare in sosta libera. Non puoi tirare giù i piedini. Questo perché non è che si può sganciare la roulotte lì, per strada, e poi muoverti con la macchina. No, è abbandono di rimorchio, è occupazione del suolo pubblico, quindi non si può, devi lasciarlo all'interno di campeggia e resosta. Oppure invece ti fermi con la macchina agganciata, la roulotte, e puoi sostare come sosti col camper, come sono io in questo momento in un parcheggio. Non tutte le soste accettano la caravan, è vero, ma nella realtà stanno diminuendo sempre di più. E poi comunque, se non c'è una sosta camper, un'area camper che accetti la roulotte, esiste tranquillamente un'azienda agricola, un'azienda casearia, dove si va a comprare un formaggio, due salami, una bottiglia di olio, di vino, e le si chiede se si può sostare nel parcheggio per quella notte. Voi siete autonomi, dopodiché il giorno dopo vi cercate un campeggio eventualmente dove fermarvi. O un'area camping che accetta la roulotte. Personale esperienza, devo dirvi che su dieci soste camper, due non hanno accettato la roulotte, per ragioni logistiche, chiamiamolo così, e pratiche. Le altre assolutamente nessun problema. Magari ragioni possono essere che l'area sosta ha l'accesso automatico e quindi succede che se poi esci con la macchina perché hai lasciato la roulotte, finisci per non pagare il periodo di sosta della roulotte, ma soltanto l'entrata e l'uscita con la macchina. Quindi ecco perché alcune volte possono esserci alla base queste problematiche. Per quanto invece riguarda la guida, ricordate che la roulotte, il caravan, quando fate retromarcia con l'auto, girate il volante a destra, il caravan va a sinistra, girate il ruolante a sinistra e il caravan va a destra. Io vi consiglio di fare come ho fatto la prima volta che ho agganciato nocciolina. Sono andato nel piazzale dello stadio, ho messo le borse e delle giacche per terra e ho cominciato a fare manovra con la macchina e la roulotte dietro per cominciare a capire come funzionasse. Allora noi abitualmente siamo così abituati, scusate il gioco di parole, ma abitualmente guidiamo dove guardiamo davanti e per fare retromarcia guardiamo dagli specchietti retrovisori tenendo l'idea che ci muoviamo con la macchina in quel modo. No. Dovete considerare di essere in barca. Voi non è che guardate il timone e guidate la barca, ma guardate la prua, cioè davanti. Allora la roulotte diventa la vostra prua. Buttate fuori la testa dal finestrino, ruotate il volante come se fosse il timone e guardate la roulotte perché è lei che vi dirà dove dovete andare, dove state andando. In base a come ruotate il timone capite come la roulotte si muove. È veramente facile, dopo qualche minuto di presa di mestichezza capite perfettamente. Ci si prende un po' di facilità, ma si riesce tranquillamente a gestire questo tipo di situazione. Altra cosa da tenere presente, il caravan ha dei limiti di circolazione, limiti di velocità. 80 km in autostrada, 70 km in statale. Ve ne accorgete subito, perché quando superate una certa velocità lui dietro comincia a fare questo effetto, a ballare. Che significa? Significa che raffiche di vento, significa che è un sorpasso, oppure venite sorpassati da un camion, da un autobus. Vi consiglio di installare il stabilizzatore, scusate, lo stabilizzatore sul gancio traino. Per me, nel mio caso, è stato da così a così il cambio nel guidare. Decisamente più stabile e più sicuro alla roulotte, considerando che la mia roulotte è una roulotte vintage che ha ben 40 anni. C'è poi la possibilità di installare anche la TC, che è un ulteriore sistema per governare e per essere più sicuri ancora nel viaggio in rimorchio. In questo Alco è in assoluto il leader del mercato, l'azienda, il marchio più completo negli accessori. Pensate che addirittura c'è un accessorio che lo posizionate sul timone della roulotte quando sganciate la roulotte, ed è un antifurto che chiunque arriva non può agganciare la roulotte e portarvela via. Tanto per dirvi, ecco. Però lo stabilizzatore reputo che sia una delle prime cose assolutamente da comprare se la roulotte non è dotata. Esiste poi un sistema chiamato Mover che quando parcheggiate la roulotte, quando la sganciate dalla macchina, invece di muoverla a mano, con un telecomando vi muove la roulotte. È molto più pratico, è molto più semplice, è meno stancante. Anche in questo caso, Alco, nel catalogo, trovate i riferimenti del prodotto. Se avete poi bisogno, scrivetemi in privato, vi do i codici degli articoli e i prodotti da identificare. E ora veniamo alla scelta della roulotte, cioè che tipo di disposizione interna, come utilizzarla. Allora, la roulotte è più casa rispetto al camper, perché non c'è la cabina di guida. Io personalmente vi consiglio che se l'uso ne fate che su dieci uscite otto sono in campeggio e due sono in sosta libera, diciamo che camperizzatela un po' nel minimo indispensabile. Le montate una piccola batteria, un pannellino solare piccolino, ma anche da 80-100 watt, nessuna cosa grande, che abbia una doccia nel bagno e basta. Perché tanto il frigo vi funziona lo stesso a gas e batteria, l'80% delle soste le fate in campeggio sotto alla 220, magari con un verandino montato, quindi capite che già è una situazione diversa rispetto al camper. E questi piccoli accessori vi rendono più autonomi durante una sosta. Ma banalmente, venite al salone del camper, quei due giorni, tre giorni che state lì, siete autonomi con il vostro bagnetto, la vostra corrente, senza dover diventare matti. Andate a vedere un concerto, andate a fermare, andate due giorni a vedere November Pork, cioè uno degli eventi che si è appena concluso, così siete autonomi lo stesso con la vostra macchinetta e la vostra auto. Questo per darvi qualche informazione in più sull'interno. Altra cosa fondamentale, visto che scegliete una roulottina magari adatta alla famiglia, considerate che in roulotte non si può viaggiare quando siete nel trasferimento. Quindi cercate sempre di posizionare tutto ciò che è utile per la roulotte all'interno degli stipetti comodi, chiusi. Perché? Perché la roulotte, a differenza del camper, non ha gli ammortizzatori, spesso è un pianale rigido, quindi tutto ciò che c'è all'interno dei pensili, se non l'avete chiusi bene, cade per terra. Viaggiate sempre con il tavolo della dinette abbassato perché così è più stabile se non rischiate di trovarvelo in giro nella roulotte durante una frenata. Tenete sempre almeno disponibile il bagno perché quando vi fermate nell'autogrill per poter salire e far pipì almeno è più comodo rispetto al bagno dell'autogrill che è sicuramente pessimo, sappiamo perfettamente in che modo sono mantenuti specialmente al 10 di agosto, cioè in alta affluenza per intenderci. altra cosa fondamentale da tenere presente la veranda della roulotte se la usate prettamente l'estate prendetene una molto semplice se la usate invece anche d'inverno allora magari quelle gonfiabili vanno già meglio se fate sosta libera un verandino estremamente semplice pratico è la cosa migliore se invece vi fermate diversi giorni cioè siete quelli che dicono io mi faccio su 20 giorni di vacanza faccio due campeggi 10 giorni in uno 10 giorni in un altro allora prendetevi la veranda bella completa con le pareti con la privacy un piccolo temporale un po' di vento voi potete lo stesso mangiare fuori capirete che la roulotte essendo più casa tendete a mettervi anche il lampadario nella veranda non dico i sette gnomi davanti però ad avere il tappetino comodo la cucina esterna dove poter mettere il fuoco per cucinare in veranda per esempio il suo mobiletto il fuoco con il mobiletto con sopra il piano cottura magari può essere la piastra piuttosto che a gas quindi tenderete a essere un po' più casa ecco un po' meno selvaggi un po' meno wild ma tutto dipende dall'uso che decidete di fare della roulotte e della vostra vacanza spero di essere stato utile ci sono un sacco di altre richieste informazioni scrivetemi e io vi farò sicuramente dei video nel raggruppo e vi farò dei video di spiegazione un ultimo punto poi noi ci salutiamo che tipo di marchi allora intanto sono veramente in Italia abbiamo solo più Wingham che produce la roulotte in monoscocca e poi basta perché purtroppo di produttori italiani non ce ne sono più se volete proprio iniziare con l'avventura del caravan prendete una roulottina che ha 10 15 anche 20 anni normalmente è stata usata molto poco cominciate con quella la manutenzione è molto bassa perché ripeto non avendo la parte motore c'è solo la parte della cellula e cominciate a capire se è la soluzione migliore se vi può piacere fate poi tempo dopo a comprarvi una bella roulotte nuova iper accessoriata stracomoda con frigoriferi da 140 litri eccetera ma inizialmente come per il camper avete fatto un primo acquisto un primo prezzo fate altrettanto per la roulottina ci vediamo al prossimo video fate i bravi perché fare il cattivo ci penso io ciao ciao